Sono Roberto Pagani e per Siemens cerco di sviluppare nuovi business. Sono molto contento di questa edizione del reverse pitch di HK perché noi non vogliamo essere una greenwashing company, vogliamo portare fatti e quest'anno più che altri anni siamo riusciti a trovare esattamente quello che cercavamo. La challenge era difficile e la società che l'ha riuscita a risolvere l'ha risolta per me nel migliore dei mondi. Veos Digital svilupperà un algoritmo in intelligenza artificiale che permetterà agli utenti di fare delle azioni nel momento giusto per produrre sostenibilità. Per noi garantisce non essere una greenwashing company, riuscire a fare sostenibilità anche in un nuovo mercato che è quello dell'energy community.